per realizzare la nostra mini bag ci occorreranno le perline yuri nella colorazione che andrete a scegliere ricordate che su tracerashop.com trovate tante colorazioni diverse io ho scelto la p 170 27 poi ci servirà una tracollina con il profilo in finta pelle ci serviranno due moschettoni ad anello argento la chiusura a calamita sempre argento il filo trasparente diametro 40 e un paio di tronchesine per poter tagliare i nostri fili per creare la nostra mini bag che cosa dobbiamo fare ho creato lo schema che dovrete seguire per linee che cosa vuol dire vuol dire che andiamo a lavorare io di solito lavoro in questo senso in questo verso quindi la parte di partenza in questo caso del davanti e andrò a lavorare per linee andata ritorno andata ritorno andata ritorno fino ad arrivare qui dove poi c'è la parte del fondo e dei due laterali per proseguire con il dietro e con la parte della patta nello schema troverete l'indicazione di questi pallini bordati in questo caso bordati di nero ma voi troverete lo schema bellissimo fatto a pc sul alla voce pattern sul sito tresereshop.com e lo potrete scaricare in modo da seguirlo bene passo passo vediamo adesso insieme come si fa la lavorazione vado a tagliare dalla mia rocca di filo trasparente ripeto diametro 40 una lunghezza di un metro un metro e mezzo circa non vi consiglio di tagliare una lunghezza più lunga perché magari avrete difficoltà nell'utilizzare il filo potete anche utilizzare delle lunghezze più corte ma sappiate che andrete a fare più unioni poi di filo una volta tagliato il nostro filo iniziamo la lavorazione la lavorazione per questa mini bag è a 4 quindi vado a inserire 4 perline in uno dei due capi del mio filo poi vado a mettere in pari i miei due capi metto vicini così e vado a tirare in modo da centrare le mie quattro perle in mezzo ai due fili da un lato tengo il filo fermo dall'altra vado a reinserire il mio filo e a creare l'asola che ci servirà poi come bloccaggio del filo inserisco e tiro una volta arrivata ad avere l'asolina più o meno di queste dimensioni prendo l'altro mio filo lo vado a inserire all'interno e con un semplice clac perché le perline saranno bloccate nel momento in cui farà clac all'interno della perla al filo avrò fatto il mio primo passaggio adesso seguendo lo schema come procedo andrò a creare la mia prima fila di perle quindi vado a mettere due perle da un lato faccio la mia solena vado a mettere una perla dall'altro lato la inserisco inserisco anche poi il filo all'interno dell'asola come ho fatto prima tiro un filo da un lato l'altro dall'altra e di nuovo vado a fargli fare clac all'interno della perla ed ecco qua che è nata la mia seconda parte vedete che sono tutti gruppi di quattro perle adesso lavoro in questo modo fino ad arrivare a fine della prima riga seguendo lo schema dovrò quindi avere di questi dovrò averne li vediamo comunque al fine della riga così li contiamo giusti procedo ve la faccio vedere sono arrivata ad avere una due tre quattro cinque sei sette perline che sono quelle che vedete qua adesso cosa devo fare devo fare l'ultimo per poterlo girare quindi vado a lavorare per poter girare vuol dire che non devo più avere il mio nodo in punta al lavoro ma dovrà venire laterale che cosa faccio quindi vado a mettere le mie tre perline tutte dal lato destro nel filo del lato destro una due tre inserisco faccio la mia asola e vado a inserire il filo di sinistra all'interno dell'asola e tiro tiro i miei due fini e faccio clac mi aiuto tirando con le dita in modo a sentire bene il clac ed ecco che il mio filo non è più qui ma è da questo lato fatto il primo giro che si lavora in questo modo adesso passo alla lavorazione che sarà sempre così e sempre costante per tutti i miei giri vado a fare il primo pezzo e vado a mettere una due tre perle sul mio lato sul mio filo destro praticamente faccio la mia solina inserisco il capo del filo di sinistra tiro aspettate che si è attorcigliato è passato sotto mentre l'ho spostato e poi c'è il rischio che si annodi così tiro 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 bene quando sento che la mia solina fa clac ecco che l'ho fissato adesso dovrò andare a lavorare in questo modo inserisco il mio filo di sinistra nella prima perla che trovo del giro precedente quindi questa vado a inserirlo all'interno del foro lo faccio passare e sul filo invece di destra vado a inserire due perle perché due perché due le ho già una e una due quindi adesso fino al fondo lavorerò in questo modo inserisco due perle faccio l'asola tiro metto il filo di sinistra all'interno dell'aso e vado a tirarli insieme faccio clac e proseguo in questo modo ci vediamo a termine giro per vedere ancora una volta come si gira dopodiché procediamo con la lavorazione siamo arrivati al fondo della fila passiamo sempre il nostro filo di sinistra nell'ultima perla del giro precedente poi non andiamo a mettere le due perle di qua ma le mettiamo in questo caso sul filo di sinistra per poter girare il nostro lavoro le inseriamo facciamo la nostra asola andiamo a inserire il filo di destra all'interno dell'asola tiriamo e abbiamo nuovamente il filo girato giriamo il nostro lavoro e ripartiamo e qui lavoriamo come abbiamo fatto prima quindi mettiamo tre perle di partenza tutte nel filo che risultava di sinistra facciamo l'asola arriviamo così prendiamo l'altro capo del nostro filo lo inseriamo tiriamo e andiamo a chiudere il nostro primo punto poi inseriamo nuovamente il nostro filo nella prima perla che incontriamo del giro precedente quindi come abbiamo fatto già per il giro precedente e andiamo a mettere in questo caso le perle non le mettiamo nel filo di destra ma nel filo di sinistra però la lavorazione è esattamente la stessa quindi due perle asola tiriamo mettiamo il filo di destra all'interno li tiriamo insieme e siamo pronti per proseguire adesso andiamo a lavorare seguendo lo schema dovremmo avere nel nostro lato corto una, due, tre, quattro, cinque perle ci vediamo alla fine di questo pezzo per vedere come allungare il pezzo per creare la parte della base più i due laterali man mano che andrete avanti con la lavorazione il filo si accorcerà e quindi dovremmo arrivare al punto in cui lo cambiamo mi raccomando non arrivate ad avere il filo più corto di cinque o sei centimetri perché sennò poi vi viene difficile andare a farlo passare nelle perle una volta che siamo pronti per cambiare il nostro filo e fatto il nostro ultimo clac con il filo che abbiamo lo andiamo a passare all'interno all'interno delle perle senza fare nodi perché il semplice clac che abbiamo fatto basta come tenuta non c'è bisogno di annodare diversamente andiamo a fare più passaggi finché il filo ce lo permette all'interno delle perle facendo avanti e indietro il lato fatto una serie di passaggi andremo poi a tagliare a filo con la nostra tronchesina il nostro filo facciamo lo stesso lavoro anche con l'altro arrivati a questo punto quindi quando abbiamo sul lato corto una due tre quattro cinque perle non teniamo conto dei nostri due laterali e proseguiamo a fare il nostro rettangolo che quindi si comporrà del davanti del fondo e del dietro quindi dovremmo arrivare quindi abbiamo cinque dovremmo farne ancora uno due tre quattro cinque sei sette otto nove e dieci ci vediamo al termine di questo rettangolo terminata la realizzazione del rettangolo seguendo appunto il nostro schema e dopo aver creato anche la parte della della nostra patta ho già sistemato uno dei laterali ma vi faccio vedere come vado a sistemare il secondo ho creato il mio laterale separato dalla sagoma e adesso vi faccio vedere come vado ad unirlo conto una due tre quattro cinque sei e vado a inserire il filo nella settima perla una volta che l'ho fatto passare in questa perla prendo il pezzo laterale fatto e lo vado a inserire nella prima perla che trovo anche qui a sinistra faccio il mio passaggio di filo eccolo qua lo vado a mettere in doppio ma se guardo bene ho fatto un errore perché avrei il filo in questo modo prima di passare il filo in tutti e due in tutte e due le perle devo andare a inserire una perla che mi farà da cucitura quindi inserisco la perla e ritorno a inserire 36 nel settimo filo nella settima perla non è settimo filo inserisco ecco qua tiro vado a mettere in doppio i miei due capi e tiro mi troverò con la prima perla sistemata che va a unirsi virtualmente perché non è unita filo ma si avvicina a quella del del laterale che cosa faccio a questo punto va ad inserire una perla in uno dei due file indifferente un lato o l'altro una volta inserita non faccio asola ma vado a passare l'altro filo così vedete ho un filo e un filo qui questo passaggio così tiro semplicemente e vado a cucire cuccio così fino all'ultima perla ci vediamo all'ultima perla perché la chiuderemo con l'asolina arrivata all'ultima perla farò inserirò la perla in un filo farò l'asolina come è fatto fino adesso nell'altro semplicemente inserirò il filo tiro e la mia cucitura a questo punto è fatta terminata la cucitura in questo caso io adesso non stacco il filo perché il filo ancora lungo perché dopo questo lo userò per proseguire con la cucitura la cucitura di laterali nel frattempo vado a sistemare sempre con il filo quindi a cucire la mia parte di chiusura calamita sulla parte davanti la mia parte della patta all'interno e la targhetta nel caso in cui la voglia posizionare con il filo che ho ancora che cosa faccio vado a inserirmi con un lato nella perla successiva questa vado a mettere la mia perla e proseguo nel cucire i lati esattamente come ho fatto per il pezzettino quindi passo così e tiro inserisco nuovamente il filo prima in una e poi nella perla dall'altra parte quindi un filo da un lato un filo dall'altra e poi inserisco la mia perla faccio di nuovo lo stesso passaggio terminerò al fondo con la perla con l'asolina esattamente come abbiamo fatto adesso per la cucitura del fondo della parte del laterale con il fondo terminerò anche qui quindi nella parte alta della cucitura con un'ultima perla vado in questo caso a fare l'asola per rafforzare la mia cucitura quindi inserisco faccio l'asola inserisco l'altro filo e semplicemente vado a far fare il mio clac e ho terminato la mia prima cucitura passo il filo proseguo con quelle successive per realizzare le altre unioni tra i fronti e laterali dovrete partire in questo caso il filo lo mettete ex novo mettendo il filo in una perla da un lato e nell'altra perla dall'altro e poi procedete sempre con la lavorazione che vi ho fatto vedere dall'altra parte quindi andate inserire una perla da una parte e poi passate il filo attraverso anche dalla parte opposta e procedete sempre in questo modo terminata l'unione dei nostri laterali ecco che il corpo della nostra mini bag è praticamente realizzato adesso che cosa dobbiamo fare dobbiamo andare a chiudere i nostri laterali in questo modo così da dargli la forma e da poter mettere i nostri moschettoni ad anello vediamo come si procede tagliate un pezzo di filo non è necessario che sia lunghissimo va bene anche un 30 40 cm contate le file una due e tre dove avete praticamente in fila 4 perle così vedete ognuna saltate quella così due e tre sono praticamente le file dove il vostro il filo può passare nei fori in orizzontale una volta inserito nelle quattro perle lo andiamo chiaramente come sempre a doppiare e poi che cosa facciamo lo passiamo nella perla cerco di mettervelo a fuoco nella perla che ha il foro in verticale vicino all'uscita del nostro filo quindi lo facciamo da un lato e anche dall'altra parte quindi la mia perla esce di qua vado a inserire il mio filo nella prima perla che trovo in verticale dalla parte esterna una volta inserito prendo una perla la metto in uno dei due fili e con l'altro vado a fare esattamente il passaggio che ho fatto per le cuciture quindi unisco non tiro ancora perché tirerò alla fine passo di nuovo nella prima perla che trovo con il foro verticale andando verso l'alto inserisco inserisco di nuovo anche qua nella prima perla con il foro verticale il filo fa i capricci inserisco nuovamente la perla in questo caso l'ultimo passaggio vado a fare invece la mia asolina o asola la solina perché diventa piccolina poi inserisco il mio filo è arrivata qui invece tiro 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 in modo da unire in questo modo guardate questa è l'unione in modo da poi adesso una volta che ha fatto clacca all'interno della perla vado a passare i miei fili e faccio la stessa lavorazione dall'altra parte poi vi faccio vedere come andrete a inserire il moschettone ad anello terminati entrambe i nostri laterali con le nostre appunto cuciture che hanno ristretto il laterale in modo da creare questo soffietto andate a inserire il moschettone ad anello attraverso il soffietto una volta fatto questo non ci resta null'altro da fare che andare a inserire la catena che abbiamo scelto con un semplice clacca in questo modo la nostra catena si inserirà all'interno del nostro moschettone da un lato e poi anche dall'altro a questo punto la nostra bag mignon torino in realtà da me soprannominata giandui 8 per la sua forma è pronta per essere indossata o regalata al prossimo tutorial